Musica Musica Applausi Mane qua che ti devo controllare Ecco a lui devi controllare Una a destra e una c'è in sé A lui devi controllare Questa qua Questa qua No, non ti agitare! Buongiorno a tutti. 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 Grazie. 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 Diti. grazie 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 bravo rai bene idea no è un misto però lui era andato e se andiamo adesso vai dai dai vai 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 parte come vai Matteo! 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 Quanto è il gioco? Ho dato pure la bandierina. Ah, il nostro! C'era Gioane, ma... Ho detto no, che onesta. Ho dato pure la bandierina. Era Matteo. Però no, c'era un po' il gioco di momento. Sì! Ma lei non può da regolamento. Ma non può. Che se serve? Non sono operario sul fatto d'azione. Da regolamento... Però se quando vedi fuori... Se la popolazione... Sali, vai, sali! Vediamo gli ai dai. Mamma mia! Guarda! Vieni! Dai! Guarda! 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 Grazie! Grazie! Dai! Sali! Sali! Aiutatelo! 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 Gioca! Bravo! Divi! Vai! Bravo! Stai chiamando la volta! Gara! Gara! Dai! Dai! Come on! Vai! 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 ła! Leu! Vai! Vai! Liuzão! Luzão! Calma, Leu! Calma, Leu! Leu, leu, leu! Calma, Leu! Calma! Calma! Calma, Leu! Grazie. Occhio. Vai, vai, vai. Sali, sali. Dai. Vai, vai, vai. Dai, dai. Vai. Oh, che bravo. Grazie. Una girata. Una girata. Una girata. Una girata. Una girata. Un po' bello nostro. Se prendi un pallone lì... Ma non ho toccato il titolo, eh? No, una girata. Una girata. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Dai, taglio da fuori. Prendo. Vai lei. 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 Sono belli questi qua, sono belli. Fanno... Fanno scena. Sì, fanno gala. È uno delle sue caratteristiche. Guarda. Non è più calda. No, anche perché fa delle scimolate pulite. Sì, sì. Prende proprio con la palla. È bemmo. 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 Guarda, sono tutti fuori. Guarda, io le devo avere la porta. Una tetta. Il problema è che ci arriva una volta in una pratica. Lotto, Lotto. Pazzo Lotto, porta. Guarda il bianco. Guarda il bianco. Vieni. Guarda il bianco. Vieni. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Bello bello bello. Grazie a tutti. 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 Calma, non c'è nessuno. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.